. . Tokyo segna un mediocre calo dello 0,42%, terminando gli scambi a 25.527,4 punti. Shenzhen lievita dello 0,87% e archivia la seduta a 13.777,4 punti. . Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. Francoforte è stabile, riportando un moderato meno 0,03%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a più 0,07%, resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,20%. . In luce sul listino milanese il comparto viaggio e intrattenimento, con un più 1,68% sul precedente. . 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